Quel naufragio non doveva avvenire, bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta, lo ha detto questa mattina nell'aula Paolo VI Papa Francesco, riferendosi alla strage avvenuta a Cutro e ricevendo in udienza i rifugiati giunti in Europa attraverso i corridoi umanitari assieme alle famiglie e ai rappresentanti delle comunità che li accolgono e ne curano l'integrazione. I corridoi gettano dei ponti che tanti bambini, donne, uomini, anziani provenienti da situazioni molto precarie e da gravi pericoli hanno infine percorso in sicurezza, legalità e dignità fino ai paesi di accoglienza, ha osservato il Pontefice.